amiche ed amici di oreca focus bentornati l'approfondimento di oggi è dedicato a un'iniziativa messa in piedi dalla tecno inox un'azienda italiana che realizza attrezzature e sistemi integrati per la cottura con 36 anni di attività e presente in tutto il mondo che con un grande spirito di collaborazione e solidarietà con il settore della ristorazione così fortemente colpito dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal covid 19 ha lanciato zero pensieri è con noi per illustrarcela in pochi minuti martina giacomini la responsabile commerciale dell'azienda martina benvenuta buongiorno fabio grazie per l'opportunità prima di descrivere l'iniziativa e tutti i vantaggi questa porta a chi decide di aderirvi riepiloghiamo in un minuto la storia di tecno inox allora come già annunciato tu tecno inox è un'azienda tutta italiana che da ben 36 anni progetta produce e distribuisce una vasta gamma di cuscine modulari e forni professionali tutto destinato alla ristorazione cosa ci contraddistingue maggiormente il tasto di perfezione dei nostri prodotti che si attesta oltre al 99 per cento grazie ai collaudi a cui ciascuna unità è sottoposta prima della vendita e poi soprattutto i servizi che offriamo sono tutti i servizi di supporto attivo alle vendite sul territorio servizi di formazione tecnica e commerciale e infine assistenza post vendita martina parliamo ora di zero pensieri la rivoluzionaria iniziativa proposta al mercato della ristorazione che utilizza la vantaggiosa formula del pay per use come nasce questa iniziativa e di cosa si tratta allora questa è una scelta rivoluzionaria che abbiamo deciso di compiere per venire incontro alle esigenze di tutte quelle utenze che che serviamo attraverso i nostri venditori che a causa soprattutto del covid hanno subito una restrizione della domanda non indifferente e quindi devono fare degli investimenti con più prudenza e a questo si aggiunge ovviamente la scarsa disponibilità finanziaria che potrebbero avere e per questo tecno inox ha deciso di andare incontro sopperendo anche a uno scarso supporto delle società finanziarie con la formula quindi pay per use cosa succede il forno non viene venduto ma viene venduto il servizio di cottura del forno tap per un periodo di 36 mesi quindi tre anni il ristoratore o il titolare dell'attività quindi beneficia di tutti i vantaggi dell'utilizzo di un forno prestante come il tap e di una serie di servizi tutti inclusi nel pacchetto e pacchetto che comprende installazione qualificata e aggancio del forno tap alla nostra rete tap cloud l'avviamento con uno dei nostri chef mille ore annue di utilizzo già incluse e prepagate nel pacchetto a cui poi si possono aggiungere tutte le ore di cui si ha bisogno quindi l'utilizzo è virtualmente illimitato con una tariffona raggiuntiva e poi la manutenzione programmata e ovviamente l'assistenza tecnica a chi si rivolge zero pensieri allora zero pensieri si rivolge naturalmente a ristoranti e hotel che appunto non vogliono fare un acquisto ma vogliono in qualche modo rateizzare e vogliono comunque solo usufruire dei vantaggi di avere effettivamente un forno prestante a loro disposizione ma si offre anche a tutte quelle attività alimentari cosiddette di vicinato di quartiere come le macellerie le pescherie i frutti e verdura che vogliono offrire anche un prodotto cotto e quindi non solo la materia prima diciamo cruda e moltiplicando la marginalità quindi il loro vantaggio quale sarebbe avere delle attrezzature che sono mirate a far vendere di più a loro perché avrebbero un'offerta molto più vasta di prodotti che possono vendere e con qualità di cottura garantita e venderli anche meglio perché avrebbero sicuramente una marginalità più elevata dal prodotto cotto quali sono i vantaggi e i punti di forza di zero pensieri allora i vantaggi sono molti sono per tutti innanzitutto i vantaggi per l'utente che utilizza il forno che può avere tutte le prestazioni e tutti tutte le soluzioni offerte da tap senza un investimento che appesantisca il proprio bilancio poi ci sono vantaggi per i nostri partner tecnico commerciali che sono coloro che prestano servizio localmente per conto di tecno inox con questi partner si crea sempre un circolo virtuoso di fiducia e maggiore vicinanza poi ci sono anche vantaggi per tecno inox stessa perché grazie ai dati che riceviamo dal forno sull'utilizzo e sulla diagnostica possiamo sempre lavorare in un'ottica di miglioramento e perfezionamento continuo per garantire prestazioni sempre migliori dei nostri prodotti in futuro e allora parliamo dunque della parte pratica e più concreta come funziona quali sono le azioni e i passaggi da seguire per poter aderire a questa proposta allora innanzitutto la proposta è riservata ai partner partner tecnico commerciali più preparati e fedeli quindi cosa succede il partner insieme anche a noi e gli area manager che abbiamo sul territorio e selezionano gli utenti e poi noi facciamo una semplice verifica di affidabilità se è tutto ok si può partire subito con la consegna del forno e diciamo il pagamento della prima data e poi il contratto viene formalizzato e ovviamente i ristoratori o i titolari di attività che sono interessati in questa formula paper use possono anche contattarci per un consulto per un consulto nostro che faremo insieme ai nostri partner tecnico commerciali naturalmente tutto questo servizio affianca all'usuale vendita che tecno inox ha sempre fatto dei propri prodotti e per il servizio di assistenza tecnica come funziona allora innanzitutto solo il partner tecnico commerciale è autorizzato a operare sui forni tap che sono oggetto del paper use e questo partner sarà colui che si occupa del forno tap in tutto il suo ciclo di vita quindi dall'installazione alla connessione appunto al tap cloud e sarà una manutenzione semestrale inclusa nel pacchetto e anche un servizio di pronto intervento assistenza tecnica in 48 ore è la prima volta che viene adottata questa formula per le attrezzature di cottura nel comparto della ristorazione avendo di fatto introdotto questo sistema nel settore siete dei precursori l'emergenza sanitaria non ha spento la vostra creatività il mordente che vi contraddistingue e il desiderio di affiancare i professionisti che scelgono tecno inox da oltre tre decenni seguiranno altre iniziative volte a supportare i vostri partner noi come tecno inox siamo molto orgogliosi di essere la prima azienda nel comparto fornicottura a offrire soluzioni reali di servitizzazione che svincolano gli utenti dall'acquisto del bene siamo sempre stati molto attivi nel cercare soluzioni che potessero concretamente aiutare il settore della ristorazione e continueremo sempre a stare vicino ai nostri partner e ai nostri utenti che mai come in questo periodo hanno apprezzato e apprezzano la nostra vicinanza quindi sicuramente ci sarà una ricerca continua di soluzioni e servizi sempre in evoluzione per la massima soddisfazione dell'utente e dei nostri partner grazie martina sei stata estremamente rapida e coincisa nell'andare a spiegare un'iniziativa che di fatto rappresenta una grande novità per i sistemi di cottura nell'ambito della ristorazione per tutti coloro che desiderino entrare in contatto con tecno inox quali sono i riferimenti del sito web e della posta elettronica dedicata allora sicuramente si può fare riferimento al nostro sito web tecno inox.it e per informazioni specifiche sul paper use su questa nostra iniziativa potete scrivere a venditaitalia chiocciola tecno inox.it grazie a te fabio per l'opportunità di nuovo e io ringrazio te per la disponibilità martina hai spiegato in pochi minuti ma con grande efficacia i punti chiave dell'iniziativa che è davvero innovativa per il settore amiche amici noi ci fermiamo qui ma torniamo prestissimo con un nuovo approfondimento legato a uno dei tanti temi del comparto oreca grazie a tutti grazie a tutti